Gran loggia 2020 qui al Palacongressi di Rimini, dopo l'allocuzione del gran maestro Stefano Bisi del GOI, ovvero Grande Oriente Italiano, la più grande fratellanza massonica italiana. Un'allocuzione dove ha lanciato anche delle cose importanti. Ma ho detto che bisogna perseguire l'unità nelle diversità, che vuol dire rispetto di tutti, vuol dire rispetto delle idee degli altri, vuol dire dialogo, vuol dire confronto. Questo è il tema della gran loggia e possiamo dire uniti nelle diversità ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta a riunirci con le nostre mascherine, con il gel, scaricando l'app Immuni, senza baci e senza bracci, ma uniti nelle diversità ce l'abbiamo fatta. E un passaggio mi ha colpito molto, gran maestro. Libertà e uguaglianza non ci sono se non c'è la fratellanza. Sì, non ci sono se non c'è la fratellanza. La fratellanza che tiene unita una comunità che così può trovare la libertà e l'uguaglianza. Il futuro del GOI in Italia? Se si fa questa domanda al gran maestro non può che corrispondere a un futuro radioso. Ma un futuro radioso perché? Perché c'è bisogno del Grand Oriente d'Italia, perché c'è bisogno di un luogo dove ogni persona possa raccontare la propria storia. dove c'è bisogno di un luogo dove non conta la dimensione del portafoglio, ma la dimensione del cuore. Un luogo dove il silenzio è una virtù, perché se taci ascolti e se ascolti impari. Di questo luogo c'è bisogno e quindi c'è bisogno del Grand Oriente d'Italia. Grazie.